Intanto ci prendiamo tre punti, come ogni partita sono comunque per la fine importanti. Poi ci prendiamo comunque a tratti un bel gioco espresso dalla squadra e ci portiamo a casa anche un aspetto importante da migliorare, che bisogna essere un po' più incisivi davanti, non si possono avere così tante occasioni e sprecarle. Questo è un aspetto in cui dobbiamo crescere ancora tanto, perché non tutte le partite si presentano con mille occasioni e quindi bisogna crescere da questo punto di vista. Vista la squadra era una vittoria preventivata, in parte la davate per scontata oppure sapevate che il Sassuolo presentava comunque delle difficoltà di un certo tipo? No, allora di scontato non c'è mai nulla nel calcio, mai. La partita è stata presa in maniera assolutamente seria, con la voglia di fare il risultato, di prendersi tre punti, ma senza sottovalutare una squadra che è venuta a Torino a caccia di punti. Quindi sapevamo che avrebbero provato a metterci in difficoltà. Ma, ripeto, si deve far meglio, non si può soffrire così tanto fino alla fine. Ancora meno prevedibile sarà il risultato della partita successiva, forse la partita più importante per il campionato di quest'anno? Sì, intanto le ragazze effettueranno la pausa nazionale, quindi avranno la testa, è giusto che sia così, la concentrazione verrà una partita altrettanto importante di qualificazione per il Mondiale Francia 2019. Quindi, al loro rientro, penseremo alla prossima partita, che sarà il Brescia, e sarà un'altra partita di quelle importanti, ma come tutte le altre, a di là che si chiami Brescia, Fiorentina o Sassuolo. Insomma, tutte le partite vanno affrontate con la massima convinzione. Parlato di nazionale, sul versante maschile è un momento particolare. Il movimento femminile invece negli ultimi anni è cresciuto tantissimo e sta continuando a crescere. Su cosa adesso bisogna puntare per ricostruire in generale il calcio italiano? Questo non lo so, è un compito che lascio fare ai vertici federali. Io posso dire solo che il calcio femminile in questo momento è un'occasione irripetibile e quindi dovrà puntare su questa qualificazione mondiale per rilanciare il calcio femminile una volta per tutte. Io torno invece alla Juve. Volevo chiederle se dicembre sarà effettivamente un mese decisivo, tra scontri diretti, poi c'è anche la Coppa Italia. Decisivo? No. Importante? Direi proprio di sì. Oggi è esordito anche la RUD, quindi gradualmente si stanno vedendo tutte le giocatrici in campo. A che punto è il processo di inserimento di amalgama di tutta la rosa? Sì, no, in realtà la RUD aveva già preso parte a una partita e l'amalgama direi molto bene. È chiaro che adesso pian piano stiamo creando un'identità di squadra e non sempre, purtroppo, riusciamo a dare spazio a tutte, ma finché i risultati sono questi ci riteniamo e spesso quando le giocatrici sono chiamate a far parte della partita sono sempre determinanti poi alle fine anche di un risultato. Quindi, bene, vi recupio bene rispetto al gruppo, rispetto all'amalgama, rispetto alla coesione. Fiorentina, 0-0, 9 punti di distanza dalla Juventus, è fuori, è tagliata fuori? Me lo state dicendo adesso e non so assolutamente i risultati, quindi... Beh, mi fa veramente strano il risultato... Effetto Champions. Ma effetto che quest'anno, io lo dicevo prima, la competitività delle squadre si è alzata e quindi non c'è nulla di scontato e ogni partita va affrontata veramente al massimo perché altrimenti si può cadere e scivolare in risultati di questo tipo qua che ti possono compromettere comunque una corsa verso la vittoria e può essere anche di impedimento, certo. Non sta attraversando un momento di scurdo.